Un guasto oppure un malore? Sono le ipotesi che si fanno per la tragedia avvenuta oggi in Valsugana. Un ultraleggero biposto è precipitato a Scurelle e ha preso fuoco. Morti il pilota, un uomo di 70 anni e il passeggero, un giovane di 35, entrambi del posto, aperte due inchieste. I particolari con Massimo Mazzalai. Un'avaria al motore probabilmente e un disperato tentativo di atterraggio a Scurelle in Valsugana. L'ultraleggero con due persone a bordo si è schiantato sulla stradina che porta alla discarica in località Sulizzano e si è incendiato senza dare scampo ai due passeggeri. Il pilota Massimo Luzzana, 70 anni, docente universitario a Milano in pensione e Michele Pagan, 35 anni di Grigno. L'ultraleggero, un modello come questo, era partito da qui a Ospedaletto dal campo di volo allestito e curato da Massimo Luzzana. Un conoscente lo ricorda così. Una brava persona, lui veniva qua, si preparava il suo aereo, prima di partire faceva le sue verifiche e poi veniva qua sulla pista e decollava da qua ma decollava spesso, non era insomma la prima volta che decollava. Senta, era stato vittima di un incidente per fortuna senza conseguenze anche qualche anno fa? Sì, mi sembra 5 o 6 anni fa qua su ma una cosa da niente perché non ha riportato praticamente niente. L'incidente nel 2009 senza conseguenze in quel caso. Vicino alla rimessa dell'aereo la piccola vettura che Luzzana aveva usato per spostarsi dal bed and breakfast che gestiva con la moglie a Tomaselli di Strigno. Per questa gita in aereo il passeggero Michele Pagan aveva preso un giorno di ferie. Lavorava alla famiglia cooperativa Bassaval Sugana. Qualcuno ha visto volteggiare l'ultraleggero con il motore che metteva un rumore sospetto, quel che è certo che poco prima delle 10 a Scurelle si sono sentiti due boati, lo schianto e poi lo scoppio. È subito intervenuta l'eliambulanza di Trentino Emergenza e sono a corsi vigili del fuoco ma per i due uomini nulla da fare. I carabinieri stanno raccogliendo gli elementi per stabilire le cause dell'incidente. Fra le ipotesi l'avaria al motore ma anche il malore. Due le inchieste di procura ed ENAC. Massimo Luzzana era pilota esperto e appassionato. Sempre praticamente lui era proprio appassionato ma molto di volare. Credo che sia la sua passione più grande era proprio diciamo che era innamorato, innamorato proprio del suo. Un innamoramento molto fatale a questo punto. Purtroppo sì.